Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Nuove preoccupazioni per la salute di re Carlo scuotono la famiglia reale e i sudditi. Il sovrano, che da mesi affronta una dura battaglia contro un tumore, aveva mostrato segni di miglioramento, riuscendo a riprendere alcuni impegni ufficiali. Tuttavia, nonostante il parere contrario dei medici, Carlo ha deciso di intraprendere un lungo viaggio istituzionale in Australia con la regina Camilla. Sospendendo temporaneamente le terapie chemioterapiche per onorare i suoi doveri. Questa decisione ha generato tensione e apprensione, soprattutto alla luce dei nuovi problemi di salute emersi durante il viaggio. La situazione ha messo in allerta il suo entourage e i sudditi, che temono un peggioramento delle sue condizioni. Sebbene i dettagli restino riservati, il sovrano ha promesso di riprendere i trattamenti al rientro nel Regno Unito. L'annuncio ha generato timori tra chi spera che Carlo possa continuare a guidare la monarchia con resilienza e forza.